Ciao a tutti, ben arrivati in un nuovo video, il video svuota la spesa a detersivi ho un bel sacco pieno, devo dirvi la verità, sono andata da... sono cose che ho preso da Ipersop e altre cose le avevo prese da Acqua e Saponia qualche giorno fa, quindi ve le faccio vedere qua e sono andata per prendere due cose, sono uscita con il sacchetto pieno, come sempre sono cose che non ho mai provato, quindi se le avete già provate eccetera datemi un feedback perché mi torna sempre utilissimo allora, il primo prodotto che ho preso è questo ammorbidente qua, della Deox che era in offerta a 0,99, è un ammorbidente concentrato alla Gardegna ed è in questa appunto confezione che poi io travaso nelle bottiglie di vetro sapete che ho tutto, insomma, il mio kit di bottiglie di vetro dell'angolo lavanderia se non l'avete visto vi lascio comunque il video qua sopra, ve lo lascio nell'info box e vorrei, appunto, l'ho preso da provare perché non avevo più ammorbidente in casa e oltretutto non ho neanche sentito l'odore, quindi lo sento con voi mi dà l'idea che sia così un buon profumo e non l'ho mai utilizzato, in Deox ho avuto modo di utilizzare i detersivi sia quello per i capi bianchi sia quello per i capi neri e l'amorbidente però mi è nuovo c'erano altre due profumazioni ma questa era quella che, voi non lo so, a sentimento mi ispirava di più lo testerò prossimamente e vi farò sapere un altro prodotto che ho acquistato è questo, l'ho preso per due motivi il primo ne ha parlato benissimo la mia amica Giulia, yes, io candeggina lei è una pagina Instagram, non ha un canale su Youtube quindi se non la seguite su Instagram, vivete a farlo, ma insomma è abbastanza seguita quindi con probabilità già la conoscete e l'ho preso per il secondo motivo che ho terminato le mie caps della lavastoviglie e sto parlando di questo prodottino qua, della Fairy ed è il Fairy Platinum Gel All-in-One limpidenza, pulizia, brillantezza, freschezza al limone e questo praticamente lei lo consigliava perché capita appunto di non caricare magari sempre la lavastoviglie nello stesso modo e con il terzivo per la lavastoviglie liquido è più facile regolarsi insomma con le dosi di prodotto da utilizzare lei si è trovata molto bene, mi fido ciecamente di lei quindi mi sono rimaste forse una decina di tabs e penso poi appunto di iniziare a provare lui e vi farò sapere anche delle tabs, ho usato le Fairy quindi mi ci sono sempre trovata molto bene ma ero curiosa di provarlo, l'ho trovato in offerta tipo 3 euro e qualcosa e l'ho acquistato infine l'ultimo prodotto preso da Acquissapore che anche questo qua era in offerta credo che tra l'altro quel volantino lì sia finito ho preso queste salviette qua della Lisoform salviette detergenti igienizzanti profumazione oceano ci sono dentro 30 salviette io queste qua le uso con potere esograssante queste qua io di norma le uso non queste di Lisoform ma queste salviette qua per pulire l'interno del cesto della biancheria quello in plastica, quello in bagno per pulire la parte esterna magari del bidone della spazzatura la utilizzo per pulire la parte esterna magari della valigia quando vado da qualche parte tutte queste cose qua per magari dare una passata magari nel sottolavello quando sono di fretta tutte queste cosine qua io utilizzo queste siccome ho usato quelle della Napisan più volte e non mi sono mai dispiaciute ma le trovate sempre troppo cariche di prodotto l'ho vista in offerta ero curiosa, non le ho mai trovate e le ho acquistate poi passiamo a Ipersop del quale ho anche lo scontrino quindi con scontrino alla mano posso dirvi qualche cosa di più e quindi io direi di partire probabilmente non so quando andrà online questo video potrebbe essere già finita la promozione del volantino quindi non lo so perché non so se lo vedrete venerdì o addirittura la settimana dopo quindi non lo so allora ho preso come prima cosa questa non era in offerta della Vileda queste qua queste sono le Active Fibre panno universale dentro ce ne sono due pezzette per farvi capire vi faccio vedere quella che poverina non ce la fa più che devo eliminare allora le pezzette in questione è questa qua vedete che poverina è veramente ridotta in condizioni terribili questa qua è la seconda che io amo e adoro per la pulizia dell'acciaio l'ho scoperta grazie a Annalisa e da quando l'ha fatta vedere lei io veramente per l'acciaio ormai utilizzo quello perché con una passata viene splendente se sciuga eccetera quindi le adoro costichiano perché costano 2,79 euro 2,97 euro scusatemi e dentro ce ne sono due però vi durano le puntate di lavatrice se è anche a 60 gradi loro resistono e basta io mi ci trovo molto bene con quella lì ci ho fatto un paio di mesi più o meno quindi considerate che dentro ce ne sono due ecco ve le consiglio sono veramente quei prodotti mai più senza da avere a casa poi ho preso che erano in offerta a 0,99 con la tessera Ipersoap questi sacchetti qua per la spazzatura sono 15 sacchetti rifiuto secco non riciclabile con i manici e sono in questo formato qua li adoro sono fantastici tra l'altro sono anche non profumati però mantengono cioè non fanno passare i tattivi odori quindi li ho presi poi ho preso della Nelsen perché l'unico che io non ho mai provato il Nelsen argilla e melograno extrazione disincrostante rimuove le incrostazioni dura a lungo combatte i cattivi odori azioni sgrassanti rimuove lo sporco bruciato è l'unico Nelsen che io non ho mai provato li ho provati tutti quello all'argan quello al burro di carité quello al limone quello con il bicarbonato attivo e basta direi li ho provati tutti mi mancava lui e mi sono detta sai che c'è lo provo stiamo è anche un odore gradevole quindi l'ho preso in curiosità veniva 0,99 e vi farò sapere così posso dire di aver provato tutti i Nelsen piatti sapete che io ormai sono Nelsen piatti dipendente da lì non mi muovo poi siccome l'ho quasi finito sgrassattatore con candeggina igiene universale della Chanticleer che adoro igienizza smacchia e deodora l'ho utilizzato tra l'altro anche ieri sulle felpe del lavoro e le ha smacchiate di norma io questo qua lo utilizzo per la pulizia del bagno questo qua era in offerta a 1,89 euro poi 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 ho preso perché li ho finiti in bagno quindi il mio spruzzatore automatico della Gled era in offerta questo qua a vediamo se lo trovo aspettate ragazze appena lo trovo ve lo so dire 2,99 euro ho preso questo qua alla lavanda quindi vi farò sapere se l'avete già provato dite un po' poi ho preso due confezioni di mon amour per i cassetti per gli armadi questi qua li ho presi sono profumatori per armadi e cassetti vanno bene anche per la asciugatrice la profumazione blumare almeno dai per so che c'è solo questo costo 1,99 euro l'uno ho preso li ho ripresi perché li avevo presi quest'estate e mi ero resa conto che effettivamente l'armadio risultava stra profumato nei primi giorni dopodiché un po' svaniva e però mi era venuto il dubbio che fosse il caldo ad aver insomma fatto andare via velocemente il profumo adesso siamo in inverno quindi voglio riprovarli assolutissimamente e vi farò sapere un pochettino anzi dopo andrò anche a sistemarli poi ho preso sempre della felice azzurra era in offerta 2,99 euro questo qui che è la ricarica al palco del del cosino elettrico siccome quello che avevo di scorta l'ho finito è questo qua blu che io amo credo che sia il profumatore elettrico migliore di tanti altri ancora di più di quello delle Yankee Candle che tranne una profumazione che mi è riuscita un sacco le altre io non le sento devo dirvi la verità quindi questo qua lo amo ve lo consiglio questo qua l'ho preso perché me ne ha parlato bene Fede ora io non mi ricordo se lei avesse preso quello all'accetto o questo qua a me ispirava più questo qua dal colore sto parlando dell'ovetto per il frigo di Mr. Magic questo qua non era in offerta questo qua l'ho pagato 2 euro e qualche cosa sicuramente aspettate vediamo se lo troviamo questo l'ho pagato 2,97 euro ha una durata di 3 mesi mantiene l'aroma naturale dei cibi ed è appunto l'ideale se nel frigorifero c'è pesce formaggio cipolle eccetera vi farò sapere anche io cosa ne penso e basta il sacchetto è vuoto io basta ero un sacco quando facevo un video di svuota la spesa dei terzi mi diverte mi piace un sacco oltretutto devo farmi anche una piccola lista di prodotti che sto per terminare e che non ho di scorta e questa cosa mi sta ansiando perché alcuni dei miei prodotti preferiti sono lì 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 e quindi aspetto di beccarli in offerta sul volo qualche volantino e vado a fare scorta perché il mobiletto fuori piange veramente piange non c'è quasi più nulla e sono molto soddisfatta di me perché sono stata molto brava in questi mesi a non comprare cose che non mi servissero queste cose mi servivano naturalmente se no non le avrei comprate e basta spero di esservi stata utile attendo i vostri feedback su qualche prodottino che appunto magari è nuovo che voi magari io non ho mai provato ma voi si ci vediamo dopo domani con un nuovo video ciao